Ciao ragazzi, sono sempre io, Tuccio Lorenzo, qui su Tuccio TV, e oggi siamo qui per un nuovo video recensione, dove visioneremo e assaggeremo una Energy Drink molto particolare. Stiamo parlando della Mega Force. Molto probabilmente solo pochi di voi conosceranno questa bevanda, dato che, appunto, è una semplice sottomarca delle Energy Drink originali. Quindi, a differenza di quest'ultime, che sono distribuite in tutti i negozi e le si possono reperire facilmente, queste qui si trovano invece soltanto in alcuni punti vendita, come ad esempio negli Iperal. Io ho, appunto, l'acquistata lì, oppure la potete anche trovare online. Possiamo dire che questa bevanda è, quindi, un'alternativa economica alle Energy Drink originali, dato che, appunto, una lattina costa solo 35 centesimi. Quindi, sono veramente curioso di assaggiarla, per vedere con me, cioè, se una lattina che comunque costa circa due terzi meno rispetto alle concorrenti, abbia comunque un sapore che sia alla pari. Vediamo subito lì, visorarla. Allora, ragazzi, questa è la lattina, un design davvero accattivante, con questo dragone tutto colorato, mentre sullo sfondo abbiamo un grandissimo contrasto di colori, tra nero e rosso-arancio. È tipo un arancio scuro metallizzato, tende molto a essere un rosso, però è un arancione. E poi, sì, è molto accattivante il design, la scritta Megaforce, qui, proprio in mezzo alla lattina, e niente. A primo impatto è molto aggressiva, e sì, può sembrare carina. Sul retro, come sempre, troviamo tutti i valori nutrizionali e gli ingredienti. Questi non possono mancare. La lattina è da 250 ml, e quindi, direi di non aspettare, direi di assaggiarla subito. Allora, ragazzi, eccoci qui con un immancabile bicchiere pulito, e direi subito di aprire la lattina, e di non perderci il chiacchiere. La versiamo, come sempre, qui dentro. Allora, ragazzi, la lattina è veramente carina. Rilascia tanta schiuma, come avete potuto vedere, è abbastanza frizzante. Veramente non male, ha un colore molto, molto acceso. Il classico giallo, proprio veramente acceso, è limpido, tra l'altro. Non è un colore nitido, come quello di molte bevande. E appunto, la cosa che si sente a primo impatto, appena si apre la lattina, è l'intenso profumo che emana. Cioè, si sente subito l'odore, una volta aperta la lattina. E che fa venire ancora più voglia di provarla, di assaggiarla. Niente, non sembra male. Il colore è molto simile a quello delle classiche, e quindi direi di provarla anche. Allora ragazzi, direi subito all'ora di assaggiarla. Veramente niente male ragazzi. Questa bevanda, per quel che è costata, 35 centesimi a lattina, è veramente ottima. Anche perché appunto, oltre ad avere il classico sapore di tutte le energy drink, appena entra in bocca, rilascia sul palato, un'intensa freschezza, che davvero, solo poche energy drink, sanno fare. Ma la cosa che mi piace, veramente, veramente tanto, di questa bevanda, è il perfetto equilibrio, tra frizzantezza, e gusto, e intensità, veramente proporzionale, non è troppo frizzante, come piace a me, ma ha un gusto, veramente intenso. Che dire ragazzi, questa bevanda è veramente ottima, ha un sapore molto intenso, ed è veramente, veramente rinfrescante. Io concludo qui, se questo video vi è piaciuto, come sempre, lasciate un like, commentate, iscrivetevi, se non l'avete ancora fatto, e mi raccomando, consigliatevi altre bevande, caso mai ne conosceste, così le porto, e le ricensisco qui per voi. Noi ci becchiamo al prossimo video, da Tuccio TV. Ciao!